E' arrivato il riscatto per il volle soverato nel turno di Santo Stefano, una bella vittoria a Marsala che commentiamo con Laura Frigo, una vittoria netta nel punteggio e anche con una buona prestazione per rimettersi in marcia e rimanere nelle posizioni alte della classifica. Sì, devo dire che ci voleva una vittoria così netta dopo le sconfitte che avevano preceduto questa partita e abbiamo risollevato il morale e speriamo che sia comunque di buon auspicio per la partita di sabato contro Chieri che sarà secondo me di tutt'altro calibro. A proposito di Chieri, il big match dell'ultima giornata del girone d'andata, sabato 30 dicembre si affronta una squadra ostica che è praticamente distanziata da voi di un solo punto in quanto siete praticamente attaccati, avete avuto un po' un percorso simile in questa prima parte di stagione, sono quelle partite dove sicuramente gli stimoli arrivano da soli? Sì, sono una squadra molto forte, hanno un sestetto completo in tutti i reparti e secondo me arriveranno qua molto aggressive perché anche loro come noi vorranno sicuramente chiudere questo 2017 nel migliore dei modi quindi ci aspettiamo sicuramente una bella partita e un Chieri molto aggressivo. Prima parte di stagione che fondamentalmente volge al termine il giudizio di Laura Frigo sull'andamento del volle soverato e anche sul suo direndimento perché ricordiamo che anche tu sei una di quelle che sei ritornata qui con tanti stimoli per far bene per fare un campionato di vertice. Sicuramente parlando per la squadra una prima parte di campionato positiva perché siamo tra le prime, abbiamo anche toccato la prima posizione quindi sicuramente un ottimo inizio. Per quanto riguarda me stessa sono abbastanza contenta, spero di migliorare ancora di più nella seconda parte increscendo ovviamente fino alla fine dell'anno diciamo. Giunge al giro di Bo, è il campionato di A2 femminile, finisce il girone d'andata con un big match per il volle soverato che sabato 30 dicembre ospita il Palascoppa, l'ostico Fenerachieri, siamo con coach Barbieri. Per commentare innanzitutto la reazione che c'è stata alle sconfitte precedenti con la bella vittoria sul campo di Marsala nel turno di Santo Stefano, una reazione della squadra, una vittoria senza particolari patemi d'animo quindi è un buon segnale che ha dato il gruppo. Sì abbiamo ottenuto un ritmo di gioco devo dire veramente alto, finora l'avevamo fatto in altre partite però magari un paio di set, un set poi magari qualche calo. Invece devo dire che questa partita per tre set abbiamo ottenuto veramente una qualità di gioco, un'intensità molto alta perciò vuol dire che siamo sulla buona strada e stiamo lavorando bene. Tantissime squadre in pochi punti in vetta alla classifica, una di queste è proprio il Fenerachieri guidata dall'ex tecnico del soverato Luca Secchi, vi precede in classifica di un solo punto, sarà una partita sicuramente avvincente contro una squadra che ha diverse bocche da fuoco se così possiamo dire. Sì loro sono state un po' le regine del mercato, sono quelli che hanno fatto mercato prima, hanno fatto una squadra prendendo il meglio di quello che a livello statistico offriva il campionato precedente. Perciò lo sappiamo che sono un'ottima squadra ma siamo convinti di potersela giocare perché comunque la qualità del nostro gioco, come ho già detto, è cresciuta molto. Sì loro hanno degli attaccanti molto molto forti, per quello li abbiamo studiati, abbiamo visto ma come ho già detto siamo convinti che possiamo dire la nostra per la qualità del gioco raggiunta. Siamo a fine girone d'andata e quindi si può fare anche un bilancio di questa prima parte di stagione del volle soverato al di là del big match di sabato prossimo. Una squadra che era partita bene ha avuto un momento di calo come lo hanno avuto tutti in questo campionato, un campionato che si conferma però equilibrato e di conseguenza anche alla portata del volle soverato. Sì il campionato rispetta le aspettative, tutto quello che si era detto quest'estate, che sarebbe stato equilibrato e così è stato. Quello che conta è la classifica, la classifica ci premia alla grande, penso che sia questo, poi nell'arco dell'anno perdere due partite o tre consecutive o perdere una e poi magari una dopo due mesi alla fine hai perso tre partite. Perciò come ho già detto noi siamo veramente contenti di quello che è la classifica anche perché all'inizio forse in pochi ci davano in queste posizioni, perciò vuol dire che la ragazza ha lavorato bene, con grande impegno. Come abbiamo già detto avevamo tante ragazze al debutto nel campionato, alcuni giovani anche della panchina al debutto, perciò il fatto di poter crescere durante l'anno c'è da stimolo e siamo convinti che noi abbiamo degli elementi proprio per questi motivi qua che potranno ancora crescere. Infine dal punto di vista tecnico-tattico come deve affrontare il volle soverato una squadra che ha le caratteristiche della Fenera Chieri? Come hai detto tu giustamente prima loro hanno delle bocche di fuoco, chiamiamole così, comunque degli attaccanti veramente pesanti, li abbiamo studiati, logicamente bisogna essere molto molto solidi a muro, ripetere la prestazione che abbiamo fatto in battuta l'ultima settimana e poi giocare la nostra partita con grande serenità.